Il cronoprogramma di realizzazione del nuovo ospedale di Muraglia prevede il trasloco entro settembre dei servizi sanitari che insistono sull'attuale nosocomio, in particolare quella cittadella della salute mentale che conta circa 100 posti letto fra RSA Tomasello, Centro di Urno Il Gabbiano, una struttura residenziale riabilitativa e due comunità protette maschile e femminile. Strutture sanitarie che ancora non hanno una destinazione di trasloco dopo che lo scorso 28 febbraio è scaduto il secondo avviso pubblico per cercare spazi idonei. Una situazione incerta sollecitata da interrogazioni in consiglio regionale di Andrea Biancani. Oggi a Muraglia è presente una vera e propria cittadella della salute mentale con oltre 100 posti letto e ad oggi a pochi mesi non si sa dove verranno trasferiti questi servizi. L'Ast ha fatto un ultimo bando che è scaduto a fine febbraio e quindi oggi è passato oltre un mese da quando è scaduto l'ultimo bando che doveva verificare sia chi doveva gestire questi servizi sia dove andranno trasferiti questi servizi e purtroppo ancora non si sa nulla. Biancani sollecita soluzioni circoscritte al territorio pesarese. Dal mio punto di vista questi 100 posti di letto devono rimanere nel pesarese sia per motivi di comodità per i medici sia per le famiglie ma soprattutto per le persone che sono attualmente ospitate e ricoverate in questi centri perché comunque hanno bisogno di essere integrati in un contesto urbano. Ho anche suggerito alla regione di verificare con Garantara, non sarebbe una soluzione ottimale perché comunque non è proprio vicino a un centro abitato ma non è pure così lontano. Garantara attualmente è una struttura che non è completamente utilizzata e potrebbe essere una buona soluzione anche perché è di proprietà diretta dell'Aste e quindi dico perché no pensare di rivedere, fare un progetto su Garantara dove creare lì una vera e propria cittadella della salute mentale.